Sono venuto a conoscenza di questo nuovo servizio Q-Pass perché seguo su Instagram la pagina di aeroporti di Roma ed è un servizio che mi ha incuriosito. Ho approfondito ed ho visto che andava a risolvere uno dei miei problemi principali. Arrivo in aeroporto e non so quanto tempo impiegherò per superare i controlli di sicurezza. È un servizio di assoluta qualità perché permette ad un utente di questo aeroporto, che tra l'altro è uno dei migliori al mondo, di usufruire di un accesso prioritario al controllo sicurezza che, come dicevo, è uno degli aspetti forse un po' più noiosi e imprevedibili dell'esperienza in aeroporto. Sì, lo consiglierei sicuramente. Le persone che erano con me in questo viaggio sono rimaste affascinate e immediatamente hanno dovuto avere dettagli su come utilizzare questo servizio. È un servizio che si spiega da solo e detto da utente spero che non si diffonda tantissimo perché questo accesso prioritario ci ha fatto sentire un po' dei membri di un membership che di solito è a pagamento, invece un servizio così gratuito ed efficiente è veramente un qualcosa di valore che va consigliato a tutti. Saluto tutti, auguro buon viaggio a chi come me sta partendo, sia per svago che per lavoro, e con l'occasione faccio tanti auguri di buone feste a tutti gli utenti degli aeroporti di Roma.